Musica Belli ragazzi onorini eccoci qui in questo nuovo video Come avete notato è uscito l'aggiornamento di VV2 Hanno lasciato diciamo l'aggiornamento di Halloween E hanno anche pacciato finalmente la nuova sfida per l'ultimo personaggio che vi caricherò fra poco Inoltre per i livelli 1000 al maestro prestigio ovviamente Su zombie hanno aggiunto questa skin che secondo me è la migliore di tutte Questa Corvo Tormento Quest'ultimo personaggio Che come vi ho detto poco fa dovete essere appunto al livello 1000 del maestro prestigio per sbloccarlo Qualche amico mio non l'ha sbloccata ma comunque ragazzi Se siete a livello 1000 ve la deve sbloccare per forza Perché comunque tutti quelli che l'hanno ottenuta l'hanno ottenuta arrivando al livello 1000 Perciò se già siete a livello 1000 ve la sbloccherà automaticamente Non vi dirà niente basta che andate nei personaggi e ve la farà vedere Come vedete questo qua è l'agente batta elite quello veramente contro coglioni Guardate tutto d'oro Tutte le rifiniture d'oro tutto colorato cromato al massimo Nel dossier neanche si vede nelle sfide infatti L'hanno aggiunto così solo perché dice è finito il gioco Aggiungiamo un personaggio serio Dopo tutto questo schifo che hanno messo Allora ragazzi io dopo di questo non so più che dirvi In prima persona comunque non si vede niente Cioè ho fatto due piccole clip per fare vedere Tipo in prima persona si vedeva un po' la cromatura ma non si fa vedere niente Comunque ragazzi a questo punto vi saluto Vi ricordo di iscrivervi e lasciare un like Bella Ciao 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 Grazie per la visione!